oggi pasta alla gricia prendiamo il guanciale via la cotenna tagliamo a strisce e rosoliamo in padella una manciata di pepe che aroma rosolato il guanciale mettetelo da parte conservate il grasso calate la pasta nell'acqua salata passiamo alla crema pecorino romano acqua di cottura deve diventare pastoso il grasso del guanciale aggiungiamo il pepe aromatizziamo e risottiamo la pasta per gli ultimi due minuti ora via dal fuoco uniamo il pecorino il guanciale e l'acqua di cottura fino a formare la crema un piatto pazzesco della cucina romana anche se il nome gricia viene dal paese grisciano comunque sia è buonissima